Per la prima volta dovremmo tornare in pubblico Fidanza dopo l'inchiesta lobbiniera. Non ha capito, manca adesso. L'inchiesta lobbiniera di Fidanza dove facevano saluti romani, dove parlava di black, non vi imparazza questa cosa? Non me ne frega niente, non so neanche di che cosa stanno parlando. Fidanza non lo conosco. Come di, non ha capito. Che ne pensa dei saluti romani? Ma che gli frega a lui? No, no, il saluto romano, se è romano non può essere romancista, perché i romani sono venuti qualche anno prima. Quindi se il saluto è romano dov'è il problema? Fidanza parlava anche di finanziamento. Non me ne frega un cazzo a me di fidanza. Non so se sono chiaro. Cazzo, lei sa cosa vuol dire? No, che vuol dire? Vuol dire che non so niente. Fidanza, non me ne frega. Ah, ma è così? Sì, me ne frega niente di fidanza. Non lo conosco. E tu hai capito? Mica posso parlare di uno che non conosce.